Davanti alla linea di difesa, Durm che è stato spostato a destra dopo Piszczek, cerca subito la profondità Durm C'è forse il gioco pericoloso di Coutinho ma si prosegue Durm Dopo Piszczek Durm Grande giocata ancora di Mkhitaryan, prova a far proseguire Durm Durm Bender Durm Sta soffrendo tantissimo in fase difensiva Paratona all'indietro Beppe